Da questa mattina la Guardia di Finanza di Salerno, assieme ai reparti dei Carabinieri Tutela del Lavoro, stanno eseguendo in sei regioni italiane ordinanze d'arresto e di vieti d'esercizio di attività professionale nei confronti di 47 indagati per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, al riciclaggio e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Arresti anche nella provincia di Pesaro Urbino, dove a finire ai domiciliari è stato un quarantenne tunisino domiciliato a Fano. Le indagini sono partite dall'illecito utilizzo del cosiddetto click day legato al decreto flussi del 2020 finalizzato all'ottenimento da parte di cittadini extracomunitari del nulla osta per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Le indagini hanno consentito di ricostruire un sistema illecito che partiva dalla costruzione di società ad hoc o dalla fraudolenta utilizzazione di identità digitale di imprenditori ignari il cui unico scopo era quello di consentire l'inserimento di stanze per l'ottenimento del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale nonché individuare una rete di persone composta da imprenditori addetti ai patronati e liberi professionisti che previa corrisponsione di denaro da parte di extracomunitari interessati predisponeva e effettuava l'inserimento. Allo stato delle indagini, ancora nella fase iniziale, è stato riscontrato l'inoltro verso diverse prefetture italiane di 2.500 istanze strumentali all'ingresso fraudolento di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale basate su dati inesistenti o falsificati. Ogni extracomunitario avrebbe corrisposto per ogni istanza inoltrata durante i click day 1.000 euro, per ogni nulla osta visto 2.000 euro e per ogni fittizio contratto di lavoro firmato altri 2.000 euro.